Ciao a tutti ragazze, adesso come potete vedere siamo sul lago bellissimo con mia madre, Lorenzo, il mio padre che guida, eccola qua, bella Cioè ragazzi guardate che bello quest'acqua, guardate che bel paesaggio, madonna Il naturale, guarda Ok ragazzi siamo arrivati sull'altra sponda, guardate quanto siamo lontani dalla riva Sta dall'altra parte del mondo la riva e noi se lo dobbiamo rifare tutto a ritorno Guardate qua paperella come sta sulla roccia proprio fiera Raga sta cosa qua, guardate ho scavato questa cosa e sembra cacca Sembra che sto creando tipo cacca di cavallo, sto facendo finta e ci ha cagato un cavallo Un uccellino Vabbè, guardate che schifo Che schifo Che schifo Quattro 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 Sì, 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 sì.